Un mistero che dura da duemila anni e che spesso vede scontrarsi fede e scienza. E' quello della Sindone, il lenzuolo che avrebbe avvolto il corpo di Cristo dopo la sua morte. E di questo se ne è parlato in un interessante convegno organizzato dall'Ancri, l'Associazione dei Cavalieri della Repubblica Italiana, dai Lions e dal Club per l'UNESCO di Foggia. Moderati dal collega Filippo Santigliano si sono confrontati un cardiologo, Pietro Pescetelli, che ha dato una sua ipotesi sulle cause e il decesso di Gesù dall'Unzio Apostolico del Vaticano Monsignor Alberto Tricarico e dalla professoressa Emanuela Marinelli, fra i massimi studiosi della Sindone in Italia e nel mondo, autrice di innumerevoli saggi e libri sul Sacro Lenzuolo. Nel corso della serata è stata ripercorsa tutta la storia della Sacra Reliquia, analizzando tutti gli aspetti di natura storica, scientifica e religiosa. Sono stati presentati con dovizia di particolari tutti i maggiori studi sull'autenticità della Sindone, ripercorrendo le tappe del suo ritrovamento alla conservazione prima in Francia e dopo a Torino, dove da quattro secoli viene conservata. Tanti dispunti di riflessione, dal significato storico scientifico della Reliquia al suo intrinseco messaggio evangelico della Resurrezione di Cristo. La Chiesa non è di chiara scientificamente l'autenticità, non è nelle sue prerogative, né obbliga la sua venerazione in quanto rivelazione di fede. Certamente ciò che invece si osserva sulla Sindone è una conferma di quanto si legge nei Vangeli e questo non può lasciare indifferenti, credenti e non. Grazie a tutti.